Sigilli ad un'intera area di cava utilizzata abusivamente ai fini estrattivi, sotto chiave l'intero complesso di impianti e mezzi di cantiere di una ditta di movimento terra e quanto operato nelle ultime ore dai carabinieri del reparto territoriale di Gela al termine di una mirata attività investigativa. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale su richiesta della procura della Repubblica. Secondo quanto appurato dagli investigatori attraverso un'indagine scattata alla fine di settembre di quest'anno è stato evidenziato che nelle contrade Piano Corallo e Feudo Nobile nell'Agro Gelese erano presenti diversi camion per movimento terra che operavano in aree sottoposte a vincoli pesaggistici e dalle quali portavano via enormi quantitativi di arenaria ed altri materiali inerti da cava. I mezzi si recavano in quei posti in orari assolutamente inusuali all'alba o poco dopo e anche la domenica. Subito dopo avvenivano i trasporti del materiale. Servizi di osservazione e pedinamento da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno permesso di localizzare uno dei camion che proveniva dall'area sospetta e si è appurato che tutti gli inerti prelevati dalle aree vincolate venivano lavorati nell'impianto e con mezzi di proprietà della ditta gelese di movimento terra in area autorizzata dalle autorità. L'attività dell'arma è stata coadjuvata dall'intervento degli ispettori del distretto minerario di Caltanissetta che nelle fasi di accertamento al primo accesso congiunto con i carabinieri avevano già provveduto ad elevare sanzioni amministrative per circa 20 mila euro ordinando la sospensione in via amministrativa di tutte le licenze estrattive della società. I reati contestati sono deturpamento di area sottoposta a vincolo paesaggistico nonché di opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica ed in assenza di denuncia all'autorità ed ademmimenti previsti dalla legge. Il GIP del Tribunale gelese riconoscendo la sussistenza dei fatti contestati e attesa la completezza e puntualità delle indagini svolte con l'effettivo pericolo di reiterazione del reato e di occultamento delle fonti di prova ha ordinato il sequestro dell'intera area di cava autorizzata che si estende per diversi ettari dell'intero impianto di riduzione e lavorazione degli inerti che si trova in contrada a catarrosone di un autocarro e di due scavatori cingolati e di una pala gommata. Il titolare dell'attività estrattiva della cava e della società, un gelese di 57 anni, è stato definito a piede libero e risponderà dei reati contestati.